La Cassazione ha confermato quattro ergastoli e una soluzione nell'ultimo atto del secondo processo per la strage di Capaci. Diventano dunque definitive le condanne al carcere a vita per il reggente del mandamento mafioso di Resuttana Salvo Madonia, Giorgio Pizzo, Lorenzo Tinnirello, entrambi killer della cosca di Brancacce, per il pescatore Cosimo Lonigro. I quattro erano accusati di avere preso parte alla fase esecutiva e di avere reperito l'esplosivo utilizzato nell'attentato del 23 maggio 92, quando un ordigno piazzato nei canali sotto l'autostrada Mazzara-Palermo esplose, uccidendo il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Con la conferma in Cassazione è divenuta definitiva anche l'assoluzione di Vittorio Tutino. La procura generale della Cassazione aveva chiesto la conferma delle condanne per i quattro imputati già condannati in primo e secondo grado a Caltanissette e l'annullamento dell'assoluzione di Tutino con l'apertura di un nuovo processo d'appello. Il processo ribattezzato Capagibis ha fatto luce su un altro dei capitoli sull'attentato del 23 maggio 92, ma resta ancora un mistero l'eventuale ruolo dei cosiddetti concorrenti esterni, cioè persone strane a Cosa Nostra, che avrebbero contribuito al piano per uccidere Giovanni Falcone.